Era sintomatico, però devo dire che a Montebelluna siamo al di sotto della media rispetto ai contagi nelle scuole e quindi questo ci fa ben sperare. Il risultato inevitabile è quello dell'aumento delle classi in quarantena nella marca, che con tamponi e controlli rimangono comunque verificate e circoscritte. A sottolinearlo l'assessore all'istruzione del comune di Montebelluna, anche oggi con il responsabile dell'edilizia scolastica, è in sopralluogo in piazzale Sansovino, uno dei punti nevralgici del trasporto scolastico. Siete qua in battaglia tutti i giorni? Sì, c'è un collega che la mattina di solito sta in altra stazione, adesso è in via Martini, io sono in via dal mattino, qui più i ragazzi, i steward. Solo in questo polo scolastico abbiamo oltre 4.000 studenti che ogni giorno entrano ed escono dalla scuola. Numeri che fanno capire quanto sia importante la presenza e la collaborazione tra la protezione civile, gli steward e il personale della mob. Ragazzi distanziati da una di meno, grazie. Studenti che seguono senza replicare le indicazioni degli addetti, un comportamento virtuoso dei giovani che è il comune del responsabile della protezione civile, addirittura stride con quello degli adulti. Come si stanno comportando i ragazzi? Nessun problema, tutti hanno la mascherina, abbiamo più problemi per dare al mercato con gli adulti che in queste aree così. Grazie. Grazie.